L'Ambrenetto 16esimo Baden-Württemberg, stazione ferroviaria di Simshine, un paesino piccolino di media dimensione, qua siamo fuori dalla stazione, vedete qua l'asfalto tutto perfetto, tutto pulito, c'è qualcosina in giro ma poca roba, qui c'è un pozzitone di sigarette e niente, questa l'entrata sopra, fagli vedere, sopra dalla stazione c'è un bar sopra, poi gli faccio vedere cosa c'è anche dentro, fagli vedere là dal paese, ok, Simshine, quindi la zona centrale, ok, adesso entriamo dentro la stazione che gli facciamo vedere dentro, ok, qui si entra per la stazione, la stazione l'entrata, qui, lampadari, eccetera eccetera, ecco, qui siamo nella zona di strada, qui, qui c'è una scritta, qui c'è una scritta, ok, questo ha un potenzione a mano ovviamente, ok, e poi la busciamo, ok, va bene, qui ci sono i binari, siamo fuori dalla stazione, qui vedete che per passare la gente hanno fatto una zona sopra elevata di vetro e c'è tutto il passaggio, ok, fagli vedere bene, adesso cerchiamo dentro la stazione, lì dentro capiamo la stazione, qui, fagli vedere Simshine sopra, lì è una scritta, Simshine, questo qui, questo che entriamo adesso è il bar della stazione, c'è anche un bisturante, c'è un bar di stazione, di là c'è un altro e c'è anche il bar della stazione, fagli vedere qui, schede al plasma, televisore al plasma, ok, qui così, questo è il bar, parquet per terra, non c'è un pezzo di carta che mette in terra, e fuori lì, ma ecco a andare un secondo, che c'è tutta la zona fuori, siamo alla stazione di Cerlusco Lombardone, adesso vi faccio vedere la stazione, questa è una sala d'attesa con la porticina di un metro, un po' di scritte, c'è scritto di tutto, cioè manca dipidezza, mare, sigala, questo è il romeno scritto, scritte politiche, viva il sesso, scritto un po' di tutto, una sala, vaga roba, qua ci sono i funghi, allucinante, appena tornato dalla Germania che sono i migliori treni d'Europa, vaga roba, vaga roba, vaga roba, vaga roba, qui stiamo aspettando che adesso sembra la stazione, sta arrivando il treno, il quadro dalla parte di arriva, che almeno non lo siamo in controduzione, vediamo com'è il treno qui in Germania, se sono come da noi, con tutti i vetri sporchi, tutte le scritte, eccetera, ecco il treno che arriva, questo è il treno di B, una volta a farglielo vedere qua, con i vetri che brillano, non c'era scritta, vediamo se riusciamo ad andare su un secondo a farglielo vedere qua, vai, vieni, 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 vediamo se si apre, forse no, forse no, vediamo, no, questo piccolo treno da paese fa ente, vediamo, che comunque sono tutte poltrone ultrapulite, qui siamo usciti dalla stazione che vi ho fatto appena vedere, quella lì è la stazione con il bar sopra che vi ho fatto vedere tutto, guardate questa è la vietta d'ingresso di un paesino, qua nel Baden-Württemberg, ok? Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen!